Un salto di qualità nella didattica e nel rapporto con gli studenti, la riorganizzazione del personale con lo stop dei privilegi, i conti in via di risanamento. L'Università di Bari assomiglia sempre di più ad una casa di vetro. Il punto sul livello di trasparenza ed efficienza raggiunti dall'Ateneo è stato affrontato nella terza giornata tematica. Un obbligo di legge ma in concreto un'occasione di scambio su progetti, nuovi percorsi e opportunità di collaborazione. Al confronto presenti gli studenti, il mondo della scuola, gli enti pubblici, comune, regione Puglia, prefettura, la conferma dell'avvio delle buone pratiche nel premio giunto sul riparto statale dal Ministero dell'Istruzione. L'Università di Bari ha incassato da Roma 186 milioni di euro sul fondo ordinario, due in più rispetto ai trasferimenti dello scorso anno, non accadeva dal 2008. Il risultato premia gli sforzi sulla trasparenza dell'amministrazione e l'investimento sull'innovazione dell'offerta formativa e verso la ricerca applicata alle imprese.